Empoli e Castelfiorentino unite dalla nuova SR 429. Il tratto finale dell'infrastruttura, quello che corre da Dogana a Case Nuove, è stato inaugurato dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni, dall'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli e dai sindaci del territorio. L'ultimo lotto, il quarto, è caratterizzato dalla presenza lungo il tracciato del ponte in acciaio sul rio Petroso, lungo 56 metri, da un secondo ponte sul rio Morto e da tre gallerie artificiali. Strada regionale, noi sempre più vivremo questa dimensione, ovvero la capacità della regione di entrare direttamente nella realizzazione senza doversi avvalere di altri enti statali o di altra natura. Perché riteniamo che le infrastrutture siano elemento centrale nella modernizzazione della Toscana post-Covid. Devo dire che ormai questo pezzo rende competitivo per chi viene da Siena e vuole andare sulla costa a Pisa, passare proprio di qui. Adesso però si punta già ad un nuovo tratto che andrà dalla rotatoria di Case Nuove fino a Certaldo. Sono 30 milioni di euro di investimento, è completamente finanziato, siamo in fase di gara, saranno affidati i lavori entro questa primavera e l'opera sarà, speriamo, se tutto va bene, se non ci saranno contenziosi e problemi di diversa natura entro il 2024. A quel punto questa arteria sarà completamente definita e questo per un vantaggio non solo per questo territorio ma per tutta la Toscana. I lavori dell'ultimo lotto sono iniziati lo scorso 2 settembre, danno un valore complessivo di 15 milioni e 700 mila euro, di cui 15 milioni tratti dalle risorse del patto per Firenze e 700 mila euro messe a disposizione dalla regione toscana. Grazie.